Scusa. Questa è Roma Sud e Torrina. Oh! No, 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 scusa. Andrea, che cosa sono questi? 5 euro. Ho capito. Allora che? Che cazzo, non so, che devo dire? Non lo so, attacca da sto cazzo. No, ragazzi, veramente state troppo infissa per un certo tipo di cinema. Cazzo, la sigaretta! Sta appannando il vetro? E quindi? Basta uno nulla per scadere nel più truce degli appannaggi. Allora, che qua stanno a sudare, c'è una puzza di cinghiale importante. Dai. Chi è stato, Bartolome? Buonaia. Non ridere qua. Non ridere. No. Sono l'unico che non hai riso. È l'alba. Ed è antropologicamente perfetto per attirare tutte le persone che qui dentro sentono e vengono attirate da sto cazzo, sostanzialmente. Capito? Da che? Chi è stato, Bartolome? Burela. Ma tu dici veramente Burela? Sì. Porco zio, no, no, io non lo sapevo. Lo spazio delle toilette discrimina in base al genere. Ci stanno da una parte i maschi, le femmine dall'altra. Le conseguenze di questo sono che le tensioni sessuali vengono livellate. È chiaro? Io non ci ho capito un cazzo, ma... Sei ripreso, eh? Sei ripreso e sta facendo degli studi economico-matematici molto importanti. Pare che gli stia andando pure parecchio bene. Ho resistito fino alla fine. Gli uomini del buoneta. Pfff. Tu? Thor! Beh, io sono stato chiaro, non assumo laureate. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io qui fra massimo sei mesi divento cameriere. Un giorno di una settimana e 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare in mezz'ora. Noi metteremo sul mercato una nuova droga. Questa pulsione erotica, nei miei confronti, che tu non riesci proprio a trattenere, dipende secondo te da quello che hai preso o te notti. Ti piaccio proprio io. Smetto quando voglio. Dal 6 febbraio al cinema. Musica 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 Musica